Cosa facciamo con il rischio cambio? Lo copriamo oppure no? Tutti retroscena di un rischio che potrebbe farti guadagnare o perdere a seconda di come lo utilizzi. Ben trovati, io sono Giacomo e sono qua ogni venerdì a parlarvi di investimenti. Per chi vuole sapere chi siamo e cosa facciamo vi lascio in descrizione il link al sito segretibanchari.com che è la nostra società di consulenza finanziaria indipendente, mentre per tutti gli altri vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Abbiamo visto che c'è stato un po' un rallentamento nelle iscrizioni, continuate a iscrivervi non solo e non tanto per fare un piacere a noi ma soprattutto per ricevere tutti gli aggiornamenti dei video che pubblicheremo. E detto ciò, tuffiamoci nell'argomento di oggi. Il rischio cambio, che è un rischio speculativo simmetrico. Cosa vuol dire? Vuol dire che in finanza il rischio non ha necessariamente un'accezione negativa, come può avere un rischio di tipo meteorologico. Quello è un rischio puro, un rischio assicurabile. Arriva la grandine, mi distrugge il raccolto, mi scoperchia la casa. In finanza invece il rischio è un qualche cosa che ha a che fare con l'incertezza. Quindi l'andamento del tasso di conversione o di cambio fra due valute può essere un qualcosa che toglie performance all'investimento, o vedremo più avanti, addirittura trasforma un investimento inutile in un'imperdita. Ma potrebbe anche darsi il contrario. Potrebbe anche darsi che lo stesso elemento faccia da acceleratore della performance e quindi che contribuisca in modo importante alla performance finale. La cosa fondamentale da capire è che il cambio ha una sua volatilità, che nel breve periodo è abbastanza limitata. Tant'è che i trader valutari, ho avuto anche la fortuna di incontrarne qualcuno, parlano di pips, cioè vanno a fare trading su scostamenti veramente piccoli del cambio. Perché se voi prendete il cambio euro-dollaro, per esempio, è difficile che nel giro di un giorno o due abbia oscillazioni del 15-20%, questo semmai c'è l'ha bitcoin, i cambi sono più tranquilli. Ma nel lungo andare ha una sua volatilità. Questa volatilità, come dicevo, può influire in due modi. Può essere una performance addizionale se il cambio scende, cioè se la valuta di riferimento in cui avete investito si rivaluta, oppure, come abbiamo visto purtroppo nel 2023, se il cambio sale, e sto parlando in questo caso del cambio euro-dollaro, in questo caso è l'euro che si rivaluta, il dollaro si svaluta e questi ha effetti negativi, naturalmente, poi sul vostro investimento. La cosa importante da capire è che se noi abbiamo come riferimento cambi di aree geografiche molto ampie, molto importanti, non, diciamo, da paese emergente, su questo poi ci tornerò fra un istante, il cambio su periodi molto lunghi è una variabile che è ininfluente. Ad esempio, il tasso di cambio tra l'euro e il dollaro è tornato ai livelli di 20 anni fa, quando è nata la moneta unica. Durante questi anni è successo di tutto, io ricordo che all'epoca lavoravo in banca, erano i primi anni 2000, e il dollaro arrivò quasi a 0,80 contro euro, quindi addirittura si rivalutò più o meno più di quello 0,95 che toccò nel 2022, e poi ritornò ai livelli di prima. Quindi pensare all'elemento valutario come un elemento di, lasciatemi dire, di redditività non ha molto senso, perché se ci pensate bene voi scambiate sostanzialmente un mezzo di pagamento con un altro, questo vale anche per di bitcoin, io non è che investo in bitcoin, io sto comprando una moneta digitale, ma che non ha un suo valore intrinseco, come non ce l'ha il dollaro, come non ce l'ha lo yen, come non ce l'ha il franco svizzero e così via. E questo è molto importante perché ci fa capire che nel lungo andare, e parliamo di 10, 15 o più anni, il rendimento di un investimento non va cercato nella valuta, quantomeno se parliamo di dollaro o di valute comunque molto importanti. E questo invece non riguarda il caso delle valute emergenti. Qua vi invito a fare attenzione perché gli stati emergenti si trovano in una situazione simile a quella dell'Italia degli anni 90, vi ricordate il governo Amato, eccetera. Sostanzialmente l'Italia era il paese delle cosiddette svalutazioni competitive, cioè per recuperare competitività nei confronti altri stati, la Francia, la Germania e così via, l'Italia svalutava la propria moneta e lo faceva in maniera ripetuta, tranne credo negli anni 60, quando l'Italia prese la lira, prese l'Oscar per la stabilità, poi la lira si è sempre svalutata. Questo modo, questo svantaggio, questa svalutazione competitiva è ben presente nelle valute emergenti, dove poi si innesca anche una cattiva politica di vicinato per cui uno Stato svaluta, l'altro svaluta e andiamo avanti così. Un paniere di valute emergenti nel tempo verosimilmente tende a svalutarsi. Ecco perché dovete fare un po' attenzione al discorso emergenti, ma sugli altri casi la somma poi sostanzialmente è uguale a zero. Coprire il rischio di cambio vuol dire bloccare il tasso di cambio con degli strumenti derivati, che non fate voi naturalmente, ma lo fanno i gestori di fondi, lo fanno gli etf cosiddetti eggiati o hedged, che hanno la dicitura HDG nel nome, e questo ha vantaggi e svantaggi. Intanto ha uno svantaggio nel fatto che la copertura non è perfetta, perché il prodotto derivato che è come garanzia del tasso di cambio può essere con scadenza giornaliera o scadenza mensile. Se voi bloccate il cambio per un mese o per un giorno, alla scadenza del contratto naturalmente dovete rinnovarlo. E se la scadenza è un mese, quando poi lo rinnovate, non lo rinnovate più le condizioni precedenti, quindi l'efficacia diminuisce. Immaginate che il cambio abbia una variazione repentina, quando rinnovate poi il derivato dovete in qualche modo assorbire parte di quella che è stata il movimento, la svalutazione in quel mese lì. La copertura giornaliera è più efficace e costa di più, anche perché i costi della copertura valutaria non sono compresi nel terro. Ora perché abbiamo pensato di dedicare questa puntata del nostro podcast alla copertura valutaria? Perché se voi guardate, come sempre da inizio anno, cosa fa per esempio un ETF azionario America o Mondiale tradizionale, cosa fa uno che ha coperto il cambio, vedrete che quello che ha coperto il cambio guadagna di più. E siccome nella testa degli investitori comuni c'è la tendenza a inseguire la performance, tutti si buttano a comprare gli ETF con il cambio coperto, perché ormai il guadagno è lì, perché si pensa che funzioni lì. Questo è l'effetto cosiddetto recency, cioè il proiettare in avanti una tendenza che è avvenuta in passato, come sei mesi fa, otto mesi fa, le persone volevano comprare i dollari perché il dollaro era forte. Mentre poi sapete che c'è il fenomeno del ritorno in media in virtù del quale poi le cose vanno a cambiare. Il nostro parere è decisamente tranchant, nel senso che noi per scelta, nel portafoglio, nei consigli indipendenti che diamo ai nostri clienti, tendiamo a non coprire il rischio di cambio in ambito azionario. Perché? Perché in proporzione la volatilità del mercato azionario è più forte rispetto a quella del cambio. E quindi se anche il cambio, come è successo ad esempio di inizio anno, si svaluta nei confronti dell'euro, alla fine una performance positiva la portiamo a casa lo stesso. Ricordo che l'MC Award inizio anno guadagna più o meno il 15% nel momento in cui sto parlando. Certo che se avessimo coperto il cambio avremmo avuto di più. Però, voglio dire, nel lunghissimo andare, 10-15 anni, quello che è l'orizzonte normale di un investitore, la copertura del cambio ha molto meno senso. Anche perché, come vi dicevo, c'è questo problema del rinnovo a scadenza dei derivati che comunque fanno sì che la copertura non sia perfetta. C'è un costo aggiuntivo, la suma ste, come si dice qua in Piemonte. Il discorso obbligazionario invece è un discorso più delicato. Qui, secondo me, il cambio va coperto o magari va anche evitato, nel senso che è inutile andare a investire sui treasury o andare a investire su questi strumenti qua se non si ha le idee chiare. Perché? Perché il concetto fondamentale quando si parla di investimento obbligazionario in valuta è il cosiddetto carry. Il carry non è nient'altro che la differenza tra il rendimento della valuta estera e quella domestica, l'euro. Se voi prendete gli emergenti, ad esempio, noterete che c'è un bello scarto di performance ed è quello scarto che attira le persone a investire. Investi in euro, prendo il 4%, se vado a comprare un paniere di valute emergenti magari guadagno l'8. Dico delle cifre casuali. E quel 4% di differenza attira. Il problema è che è poco in proporzione alla volatilità del tasso di cambio. Perché? Basta che il cambio effettivamente si svaluti, vi ricordo che il carry è su base annua, quindi un 4% per ipotesi, facciamo un 3, in 6 mesi vuol dire l'1,5. Se in quei 6 mesi il cambio si svaluta più dell'1,5, voi andate in perdita. Ecco perché la non copertura del rischio cambio sugli strumenti obbligazionari è insidiosa, perché voi vi lasciate attrarre dalla differenza di rendimento, ma se andate a comprare delle valute volatili rischiate anche di perdere. E guardate che la cosa può succedere anche col dollaro, perché il dollaro di per sé ha uno spread più basso, quindi bastano oscillazioni relativamente piccole del tasso di cambio per azzerarvi il guadagno in conto valutario. La nostra è un'idea diversa, quindi di coprire il rischio di cambio sulle obbligazioni o semplicemente comprare obbligazioni in euro che non hanno rischio cambio e lasciarlo aperto sulle altre aree valutarie, perché siamo convinti che se tu fai le cose in modo razionale, ragionato, ma diverso, tieni risultati differenti. E se mi hai seguito fino qui vuol dire che ti interessa verosimilmente imparare a investire meglio e quindi ti ricordo di visitare il sito segretibancari.com dove trovi la nostra offerta di corsi di formazione per chi vuole imparare a investire, servizi di portafoglio modello consulenza personalizzata, portafogli di stock picking per chi vuole fare da sé, comunque fare da sé con il nostro supporto, naturalmente affidandosi a un consulente indipendente come siamo noi, iscritti all'albo CF, eccetera, oppure la newsletter premium investo per chi vuole ricevere contenuti premium ogni settimana direttamente dal nostro ufficio studi. Grazie per l'attenzione, un bel like se questo video vi è piaciuto e noi ci sentiamo, ci vediamo la settimana prossima. Buon fine settimana e buon investimento.